Radio Italia Network Internet Time Ora esatta 625 bit Real Time Sono le 15 Radio Italia Network Come on! Il 2002 Arriva Arriva Ciao, sono Marco Biondi Lunedì 31 dicembre Dalle 23 su RIN Radio Italia Network Da solo Con tutti Collegamenti Da Torino Piazza San Carlo E Piazza Castello Con Andrea Pellizzari Da Caldanissetta Piazza Garibaldi Con Fabiola E poi ancora Londra New York Ibiza Melbourne Montreal RIN Biati al telefono Tony H E Lady Elena Tamara Donà TJ Speciale Carlotta Stefano Gallarini Le Fave Alex Benedetti Alvin Marco Maccarini E Lon Giovane Il 2002 Il 2002 Arriva Lunedì 31 dicembre Dalle 23 su RIN Radio Italia Network Capodanno Senza orario di chiusura In collaborazione con Tribe by Braille Time Killer Lo 40 Fave Lo Scuorenta Lo Scuorenta Lo Scuorenta Lo Scuorenta Lista Lista, ragazzi, benvenuti su RIN Radio 3 Network per la classifica, naturalmente, di ogni weekend, la classifica dance, lo Scuorenta Lista ma questo fine settimana è un po' particolare perché è l'ultima classifica del 2001 e noi abbiamo deciso di farvi ascoltare i dischi più ballati di quest'anno. Iniziamo da gennaio con Magic Box Carry On. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Don't let me down! 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 Ebbè un tormentone, era stato un tormentone il gennaio del 2001 Mabel Don't Let Me Down su RIN Radio della Network E andiamo avanti, passiamo a un altro disco, facciamo parte di gennaio E questa è una potenza, Madras Voodoo Rave Ebbè un altro disco, facciamo parte di gennaio del 2001 Ebbè un altro disco, facciamo parte di gennaio del 2001 Ebbè un altro disco, facciamo parte di gennaio del film Ebbè un altro disco, facciamo parte di gennaio del 2001 E sono in Madras, voodoo rave, parliamo vi ricordo del periodo gennaio 2001 ma andiamo avanti Parliamo ancora di gennaio, parliamo ancora del 2001 e parliamo ancora di loro Era stato veramente anche questo un tormentone ballatissimo nelle discoteche, i Sound Lovers Grazie a tutti Every day I will be there, cause I'm living, living in your head Every day I will be there, cause I'm living, living in your head Every day I will be there, cause I'm living, living in your head You don't love me no more, you can hurt me, not anymore Look at me, I am going away, you can stop me from flying away But I know I will be in your head, every time you do, you will go mad I'm the voice in your head, every day I will be there, cause I'm living, living in your head I'm the voice in your head, every day I will be there, if you can't Every day I will be there, cause I'm living, living in your head Every day I will be there, cause I'm living, living in your head Los Quarenta Radio Italia Network Read the spot Cop, 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 cop Los Quarenta Lista Los Quarenta Cop, cop, cop E vai ragazzi, io vi do ancora il benvenuto per questo allo scorrente lista di questo weekend E io vi ricordo, per chi si fosse appena sintonizzato, che questa è la classifica dei quaranta pezzi più ballati nel duemila e uno E questo è un pezzo di gennaio Mesh Come on, come on Come on, come on Are you ready? To rock, to rock, steady Are you ready? To rock, to rock, steady Are you ready? To rock, to rock, steady Are you ready? Are you ready? To rock, to rock, steady Are you ready? To rock, to rock, steady Are you ready? 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 To rock, to rock, steady Come on, come on Come on! Mesh, are you ready? Gennaio 2001, un mese ricchissimo di nuove produzioni come Billy Moore, The New Millennium Girl.